Eccoci qui in un nuovo podcast e se proprio volete andarvene e non volete sentire di chi stiamo parlando farete sicuramente male perché parliamo di un attore controverso del nostro secolo, dei nostri tempi un attore che comunque ha segnato un modo di recitare diverso all'interno delle pellicole e vedremo presto perché stiamo parlando di un attore londinese nato il 15 settembre 1977 nel quartiere di Emmersmith e stiamo parlando di Tom Hardy Tom Hardy è stato un attore, come dicevamo all'inizio, controverso perché? Perché la sua vita è stata nettamente segnata da un percorso negativo mentre la sua recitazione ci segna una svolta per ciò che riguarda il ruolo dell'attore e forse un ritorno ai tempi d'oro di quella che doveva essere la comunicazione dell'artista nei confronti del pubblico e adesso vedremo un po' perché dobbiamo dire che la sua vita è stata segnata in maniera negativa dal punto di vista privato nonostante lui abbia avuto dei natali artistici fin dal principio perché la madre era pittrice e il padre era un commediografo londinese hanno segnato il suo percorso perché ha voluto da sempre studiare recitazione ha avuto un compagno un po' particolare che sicuramente molti di voi conosceranno che è Michael Fassbender quando ha iniziato a studiare recitazioni a Londra Michael Fassbender per i più è sicuramente l'interprete di Magneto nella saga degli X-Men o colui che sbaglia le dita ad alzare in Bastardi Senza Gloria della regia di Quentin Tarantino la vita è stata controversa come dicevamo di Tom Hardy è fortemente negativa nel privato perché già a 11 anni sniffava la colla la colla da sniffare che è una droga che potremmo definire medio bassa medio leggera non saprei definirla con certezza a 13 anni si faceva di allucinogeni e a 16 anni era completamente dipendente dall'alcol in maniera esasperata e dal crack tant'è vero che lui affermerà nelle interviste che sono state fatte negli ultimi anni che lui sarebbe stato disposto a vendersi la madre pur di avere la sua dose di crack quotidiana tutto questo porterà Tom Hardy a una vita un po' scellerata sotto alcuni aspetti e fino a quando non toccherà il fondo lui non capirà effettivamente tutti gli errori che stava facendo il cambiamento arriva nel 2003 quando dopo una notte brava diciamo così fatta di droghe in maniera massiccia di uso di droghe in maniera massiccia si sveglierà il giorno dopo in una poccia di sangue e vomito ecco ritrovarsi forse nel suo stesso sangue nel suo stesso vomito crogiolato e afflitto dalla vita che stava facendo fino a quel momento forse gli ha fatto cambiare idea perché nelle ultime dichiarazioni sappiamo che Tom Hardy è pulito da quello che lui afferma è completamente pulito ma probabilmente vediamo questo fatto che lui afferma di essere pulito nelle interpretazioni cinematografiche che ci dà eppure è stato un attore molto fortunato per quanto riguarda la sua carriera perché già nel 2001 fa un film sotto la regia di Ridley Scott del suo esordio cinematografico pensate un po' ed è Black Hawk Down è un film forse che non conoscevo questo film di Ridley Scott forse mi sono fermato sempre un po' in superficie per quanto riguardava questo regista ma sicuramente è messo in coda nei film da vedere lavora con Star Trek nel 2002 Star Trek La Nemesi è il film che va a girare poi diciamo così non riesce comunque ad essere accolto positivamente sia dal pubblico sia dalla critica quindi ci sarà sicuramente altro lavoro da fare per Tom Hardy il punto nonostante lavori come la talfa con Gary Oldman e Colin Firth Tom Hardy non riesce ancora a essere perfetto, preciso per ogni tipologia di pubblico quando accade però questo? nel 2010 nel 2010 viene girato il film Inception che porterà anche Leonardo DiCaprio a una delle sue nomination per gli Oscar Inception del regista onirico Christopher Nolan porta in auge la recitazione di Tom Hardy anche se viene accolto benignamente da critica e pubblico da critica e pubblico l'interpretazione dell'attore londinese non riesce diciamo così a incidere nella maniera comunicativa di cui vi parlava all'inizio perché questo avverrà dopo comunque lo porta diciamo così a livelli superiori per quanto riguarda il contesto hollywoodiano ma cosa succede con Christopher Nolan? è un binomio che funziona Tom Hardy e Christopher Nolan perché poi viene diciamo così richiamato dal regista per interpretare il cattivo, l'antagonista nel terzo capitolo di Batman Batman il ritorno del Cavaliere Oscuro dove lui interpreta Bane dove praticamente ha liberi gli occhi e una maschera che gli copre completamente la bocca e già qui riusciamo a capire come Tom Hardy Tom Hardy come volete pronunciarlo voi fate un po' come vi pare allora quello che fa in questo lavoro è particolare perché ricambia la comunicazione noi sappiamo che il cinema nasce per comunicare senza voce il cinema muto è il primo elemento che conosciamo e Charlie Chaplin è stato maestro in questo si è dovuto poi riadattare lui stesso a interpretarsi tramite la voce Tom Hardy, Tom Hardy ci mostra come è possibile comunicare solo attraverso gli occhi e lo fa poi definitivamente con un altro film di Christopher Nolan del 2017 ed è Dunkirk si mostra il tempo nella guerra Christopher Nolan Nolan è sempre stato un regista molto affezionato alle questioni del tempo dello spazio di come viene misurato e di come oniricamente venga percepito dall'uomo in Dunkirk interpreta un aviatore durante la prima guerra mondiale se non vado errato io credo che fosse ambientato durante la prima guerra mondiale Tom Hardy interpreta per l'appunto un aviatore questo aviatore parla poco già a Dunkirk c'è poco dialogo poco testo scritto per quanto riguarda la sceneggiatura e poi non dice niente non dice niente se non attraverso gli occhi e gli occhi praticamente ci raccontano l'intero film gli occhi di Tom Hardy ci raccontano completamente l'intero film ecco se volete vedere un film che abbia una dignità espressiva lanciata al massimo da un attore e dalla sceneggiatura nonché dalla regia a questo punto è Locke Locke è un film del 2013 sempre con Tom Hardy dove lui è l'attore protagonista ma sarebbe superfluo dire che è l'attore protagonista perché è l'unico attore in scena girato interamente sopra una macchina cosa accade? Tom Hardy riesce utilizza la voce ovviamente all'interno della pellicola ci porta ci trasporta semplicemente attraverso lo sguardo e ci porta in situazioni di paura di frenesia di tristezza di beltà solo attraverso l'utilizzo delle sue pupille e questo è un livello comunicativo che un po' si perde soprattutto nella cinematografia che si riduce alla commediola che deve per forza far ridere o al dramma sparso di dialoghi inutili ecco certe volte e ricordiamolo sempre il cinema è qualcosa di visivo non è qualcosa dove il parlato può andare oltre ciò che si deve mostrare mostrare e non raccontare è la cosa più importante che si possa fare all'interno di una pellicola e Tom Hardy ci riesce bastano i suoi occhi bastano i suoi sguardi tant'è vero che quando poi si riempie di dialogo quello che ha fatto Tom Hardy come per esempio Venom che questo film è della Sony non entrerò nel dibattito Sony-Marvel per quanto riguarda questi supereroi o antieroi nel caso di Venom Venom è un film carino sì e poi nient'altro cioè non è una delle interpretazioni di Tom Hardy che sicuramente mi ricorderei e poi sicuramente lo ricorderanno molti io mi scuso con chi sta ascoltando ma io non ho mai visto Peaky Blinders c'è tra l'altro Agent Brody Cillian Murphy che è un altro dei fedelissimi di Christopher Nolan ma non l'ho mai visto molto importante è la nomination che riesce a prendere anche agli Oscar con il film di Gnarritu che è The Revenant The Revenant è diventato famoso per l'orso e perché Leonardo DiCaprio ha vinto il suo primo e unico premio Oscar proprio con l'interpretazione del suo personaggio all'interno di questa pellicola Tom Hardy da questo film riuscirà a ottenere la sua prima e attualmente unica nomination agli Oscar molto importante segnalare come abbia avuto anche la possibilità e qui ritorniamo dal punto di vista comunicativo per quanto riguarda lo sguardo gli occhi perché è anche qui abbastanza imbacuccato per quanto riguarda il viso ed è Mad Max doveva sostituire il ruolo che principalmente doveva appartenere a Mel Gibson quindi una grande ha avuto successo anche per fortuna lo dicevamo fin da sempre nonostante abbia avuto una vita abbastanza folle scorretta sotto alcuni punti è stato un attore che è molto fortunato fortunato a riprendersi in tempo fortunato a risollevarsi quando è stato il momento è fortunato per quanto riguardava la sfera privata per potersi riprendere comunque in tutti i sensi anche è stato creatore e produttore della serie Tabù per la BBC ma noi sicuramente ricordiamo di Tom Hardy le sue interpretazioni quando lui non parla ora non dico che la sua voce sia pessima soprattutto per chi lo ascolta in italiano Tom Hardy non ha mai avuto e questa è una curiosità molto interessante due doppiatori uguali di fila hanno doppiato almeno dieci dodici doppiatori diversi quindi non è riconoscibile sotto quell'aspetto Tom Hardy ha reinventato il modo di interpretare un ruolo lo ha reinventato e lo ha riportato in auge quasi fossimo di nuovo nel cinema muto dove le parole sono troppe e le immagini sono troppo poco ti ti chi Grazie.